Salve amici, buona giornata a tutti, sono Andrea Bruno. Quest'oggi siamo qui per la nostra rubrica immobiliare. Quest'oggi ho qua in vendita una bellissima villetta, un cocktail veramente di quelli d'eccezione, come lo potete vedere alle mie spalle. È in vendita ad un prezzo eccezionale. Fate un vero affare, comprate tramite la mia agenzia la casa che vedete alle mie spalle. Ok ragazzi, un saluto a tutti e alla prossima! Grazie a tutti!